Ciao, volevo solo dirvi buona domenica e una cosa molto molto importante, vi voglio bene. E volevo anche dirvi che potete andare a risirare i pass sia al centro commerciale La Rotonda di Modena e sia alla corte Lombarda di Bellinzago Lombardo perché ormai li potete prendere, settimana prossima ci vediamo. Chi è il mio vaso? Non mi caca. Oh, merda! È il mio porno, eh? Diciamo che è ieri in macchina e ci siamo divertiti un sacco a registrare il video per Andre. Io ho il tuo mento, ho il naso. Il mio naso, quindi fate il suo wipe up e oggi avrete praticamente il doppio video, il mio e il suo. Farà molto ridere. Ma chi è che se la dorme nel passeggino? È una piamotta sopra e una merda sotto. Mamma mia come siete belle. Importante, importante! Dovete farmi delle domande che devo fare ai miei amici per vedere chi mi conosce meglio. Quindi rispondete al box qui sotto con delle domande da fare all'oro. Ho una nuova felpa preferita. Pizza Planet! Forte! Guardate la magia di Bologna. Che meraviglia! E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Cosa stai facendo, Sabrina? Sono a Bologna, ho trovato il libro Sutter Face. Display e Cavolini e il filmo con dedica. Con dedica! Vi voglio bene! Ecco, ossessore del libro. Allora, dovete indovinare che cosa io e Lori stiamo per andare a fare adesso. Vi do un indizio? Vai! Scoppietta, scoppietta, scoppietta! Amore, sono in hotel da sola, ho trovato un Ferrero Rocher nella parte sinistra, poi vedi qua, l'altra parte e c'è un Ferrero Rocher anche di là. Non mi dispiace per niente essere soli. Occiò no, miau. Good morning, good morning, we've talked the whole night through, good morning. Good morning, good morning.